Ciao ragazze, vi lascio questo video, non sarà in diretta perché la torta di oggi è per un compleanno speciale quindi ovviamente la posterò in serata, anche se la torta la sto facendo diciamo alle 10 del mattino allora vi dico gli ingredienti, poi scriviamo tutto, una torta semplicissima e golosissima con la farina di nocciola poi io aggiungerò una bella glassa al cioccolato e quindi insomma sarà una bella torta di compleanno allora ingredienti, un bicchiere scarso di olio di semi, 2 uova, 150 g di zucchero, 200 g di fecola, 100 g di farina di nocciola eccola qui, che poi non è una farina diciamo, sono insomma delle nocciole tritate finalmente, ovviamente una bossina di lievito segnato gli ingredienti, poi scriveremo tutto quanto, ci vediamo dopo, torta in preparazione